formatele formatele lasciale avvassare Gesù cade per la seconda volta sei caduto ancora una volta ti sei unito con ogni uomo peccatore rimanendo tu stesso senza peccato ti sei caricato delle nostre sofferenze sei stato schiacciato dall'iniquità di tutti noi tu cadi per rialzare l'uomo cadi affinché noi tutti ci rialziamo dalle cadute dei nostri peccati dacci la forza della conversione il coraggio di ricominciare ad essere uomini liberi Padre nostro che sei nel cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ora basta allontanatele 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 via 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 guarda avanti il pastore alzati il pastore in piedi e la magra c'è questo il pastore avanti ehi 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 venga ecco la tua corona la disobbedienza a dio è la morte dell'uomo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male allontanate queste donne soldati avanti via donne andate via allontanatele forza avanti avanti cammina avanti allontanatele allontanatele allontanatele